Gentilmente dal nostro amico Gianluca Scordeccia, Photo House, che ringraziamo Gianluca Juore, e guardando le immagini vi faranno appunto godere della serata, le buone immagini della nostra Marciano e della nostra musica. Quindi lasciatevi guidare sulle note della nostra musica e buona serata e buon ascolto a tutti. Grazie 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 a tutti.